Poi, sfilza di campioncini creme corpo, che magari me li avrei dovuti far vedere prima, allora ho finito queste qui di Nature's, non so quante sono, forse erano 20, l'altri due le avrò buttate, non mi ricordo, crema corpo alla mandorla di Nature's, buonissima, ottima idratazione, ottimo nutrimento, è una crema morbida, liscia, che si spalma e si assorbe subito, non lascia ascia bianca, lascia un gradevolissimo profumo di mandorla leggero, non è forte tanto quanto quella di erbolario, più leggero come profumo di mandorla, mi è piaciuta tantissimo, nutre la pelle, non escludo di acquistare la full size, mi è piaciuta veramente tantissimo, grazie Paola. Poi, due creme corpo frangipane di erbolario, buonissime anche queste qui, floreale orientale a tratti fruttato, io sul finire delle note di fondo di questo profumo mi ricorda tantissimo Hypnose di Lancome, quello fatto a, tipo attorcigliato, ha un colore sul violetto, mi è piaciuta tantissimo, io qua mi sa proprio che me la compro la crema corpo, però voglio sempre finire, voglio sempre cercare di finire più prodotti possibili, perché l'armadio sta scoppiando e gliela fa più, chiunque dell'armadio si mette a ride, dice tu c'hai un problema, ne sono consapevole. Crema corpo papavero, ve l'ho fatta vedere un milione di volte, non vedo l'ora di aprirla, sto finendo ed era di erbolario, non vedo l'ora di aprire papavero. Crema corpo carité di erbolario, questa è sempre una crema nutriente, bla bla bla, solita storia, e ha la fragranza uguale a mirra dei tesori d'oriente, quindi speziata, dolce, calda e orientale. Reperto archeologico, crema corpo ambra liquida, questa anche mi è piaciuta, perché ha un profumo speziato all'ennesima potenza, io ci sentivo vaniglia, ci sentivo l'incenso, ci sentivo l'ambra, paciuli, comunque ha un profumo particolare, deve piacere, è un po' piccante, un po' odora un po' di camfora, non so come spiegarvi, però è buonissima, ce l'avevo lì da non so quanto tempo, l'ho usata e l'ho finita. Bacche, fiori legni, crema corpo, ve ne ho già parlato, buonissima. Frutto della passione, non mi è piaciuta, ma secondo me perché la fragranza all'interno si era rovinata. Questa sapeva un po' di dopo barba, però l'ho finita lo stesso perché ci ho fatto due applicazioni ed è terminata. Come crema mi piace, ma il profumo non ve lo so dire perché sicuramente era andato a male. Passiamo ai prodotti per i capelli, terminata questa mini size di Kiehl's, shampoo agli aminoacidi e olio di cocco, trovato nel calendario dell'avvento dell'anno scorso. Sinceramente a me non è piaciuto, cioè voglio dire è un normalissimo shampoo che lava, anzi per i miei capelli è fin troppo delicato, lava niente di più. Cioè quando vi asciugate i capelli non è che avete un effetto wow, tali e quali ha un altro shampoo che costa un euro. Non ve lo consiglio perché costerà un fottio di soldi, quindi no. Poi terminato foltaglioma campioncino di erbolario, buono, però lava in maniera delicata e quindi per fare schiuma dovete aggiungere parecchio prodotto. Poi terminato questo qui di Lamande Homme shampoo doccia, questo lava un po' di più di quello di erbolario. Il profumo non me lo ricordo, però mi pare che mi era piaciuto come prodotto, però non lo compro perché voglio finire tutte le cose accumulate che ho. Però mi è piaciuto sì, questo invece non mi è piaciuto, è di Dercos Vichy, è lo shampoo normalizzante, fortificante, anti caduta e anti forfora. Non mi piace assolutamente, proprio no, per me è troppo delicato, non mi piace, provatelo fatemi sapere ma a me non è piaciuto. Poi questo mi è piaciuto tantissimo, lo shampoo purificante, oggi mi casca tutto, shampoo purificante di erbolario alla menta, anzi è uno shampoo deodorante alla menta e alla vitamina E. Questo è leggermente più lavante degli altri, fa una bella schiuma, lascia un profumo di menta e mentolo sui capelli perché ha proprio gli oli essenziali. Quindi diventa anche il mentillattato che è una sostanza che va proprio a dare un effetto fresco sulla cute, questo forse me lo comprerò, mi è piaciuto. Poi terminato 5 confezioni di shampoo anti forfora alla propoli che è uno dei miei preferiti di erbolario, mi è piaciuto tantissimo. Questi me li ha regalati Paola della parafarmacia alla bilancia Roma, ciao Paola, perché ero andato per comprare la full size ma mi ha detto guarda ancora non mi è arrivato, magari per questi giorni tampona con qualche campione. Terminati tutti e 5, mi piace tantissimo come shampoo perché è delicato ma lava bene, quando ho asciugato i capelli sono belli vaporosi, insomma è buono, ecco, punto. Poi, sempre per i capelli ho terminato questa lacca di Eurospin, fissaggio extra forte, 400 ml. L'ho presa da Eurospin perché io prima prendevo determinati prodotti soltanto da Lidl, quindi la lacca, le salviettine per gli occhiali, per pulire gli occhiali, il detergente intimo, il brillantante. Però, molte volte mi capita di andare a dei Lidl e una volta non trovo la lacca, una volta non trovo il detergente intimo, una volta non trovo il brillantante, mi sono scocciato. E a sto punto vado, visto che la resa è praticamente uguale di questa lacca rispetto a quella di Lidl, costano uguali e a sto punto vado al posto più vicino, no? Buona, mi è piaciuta, questa mi sembra che gliela produca malizia. Adesso ve lo dico, prodotto sì, non mi ricordo dove l'ho letto ma sicuramente gliela produce malizia, mil mil. Comunque è buona, fissa bene, però tende un po' a seccare i capelli. Terminato queste salviettine multiuso con antibatterico e gianizzante alcoliche, alcol denaturato, sì, buone. Queste qui, non mi ricordo dove le ho prese, non me lo ricordo proprio. Profumavano di limone, veramente buone, sono 20 salviettine, però pizzicano un po' le mani queste, perché hanno una dosi di alcol abbastanza importante. Poi terminate queste palettine interdentali seta blu, mi sono piaciute. Prese da, boh, Mauriz, risparmio casa, pagate una cavolata, non gli avrei dato un euro, invece mi sono piaciute tantissimissimo. Le ricomprerò sicuramente. Terminate anche queste di Primark, pagate un euro, sì. Buone anche queste, sì, mi sono piaciute. Queste le ho adorate, le sto usando ancora adesso, ce n'ho un'altra confezione all'ultima, le devo ricomprare. Prese da Rossman e mi sono piaciute, sono le mie preferite in assoluto. Costano neanche un euro, 80 centesimi, sono 40, buone, buonissime. Buone anche queste qui di M, sono sempre 40, costano sempre meno di un euro. Ve le consiglio assolutamente. Poi, allora, due colluttori, questo difende perché c'è stato un periodo in cui non trovavo il mio colluttorio di Eurospin, quindi ho dovuto un po' testare alcuni colluttori che, insomma, non mi dessero fastidio, non fossero troppo aggressivi, non andassero a darmi fuoco alle papille gustative. Io ho provato questo qui, preso da Mauriz sotto di un euro. Questo era buono, sì, aveva un sapore delicato di menta, una menta fresca come fossero poi quel colgate classico. Sì, mi è piaciuto, non escludo di ricomprarlo semmai non dovessi trovare più il mio preferito di Eurospin. Questo, sempre provato da Eurospin, ne ho finito due confezioni, vedete? Però ho ottenuto solo una bottiglietta. Questo mi è piaciuto, forse... Allora, rispetto a quello verde di Eurospin, questo è più forte come sapore mentolato. È di colore blu. Però io continuo a preferire quello più che altro per il sapore. Però questo sbianca di più rispetto a quell'altro. Si vede, vedevo proprio nel periodo che l'ho utilizzato, i denti più bianchi. Quindi sicuramente è per via dell'effetto ottico perché ha un colore celeste. E quindi anche quello aiuta a far apparire i denti più bianchi in video. Insomma, a far apparire i denti più bianchi, punto. Poi, sfilza di dentifrice. Allora, ho terminato questo qui, consigliato da Silvia. Amore smodato. Ciao Silvia, salutami panchi. Questo mi è piaciuto, ho pagato sotto un euro in pasta verde. Buono, mentolato, non per niente fastidioso. Il sapore era mentolato ma delicato, non troppo forte. Mi è piaciuto veramente tantissimo. Sicuramente lo potrei riacquistare. Mi è piaciuto tantissimo anche questo qui, preso da Maveris. Stava in promozione a un euro. Questo è un 100 ml. 125 ml. Mi è piaciuto, buon sapore, lava bene, come piace a me. Aveva anche un sapore delicato di menta. Sì, sicuramente lo ricomprerò. Invece questo non mi è piaciuto. Perché è un gel con dei microgranuli molto spessi. Il gel era quasi in sapore. I microgranuli mi andavano a infastidire. Non lo ricomprerò. Non mi piace neanche la menta. Non mi piace il gusto. Non lo ricomprerò mai più. Questo invece non mi è piaciuto perché praticamente è quasi in sapore. Quindi non lo ricomprerò mai più. Cioè cercherò di non ricomprarlo. Perché ogni volta mi scordo. Perché ce ne stanno talmente tanti tipiche. Non mi ricordo mai se l'ho provato e mi è piaciuto o non mi è piaciuto. Quindi comunque, vabbè, questo qui non mi è piaciuto. Questo invece sì, di Little. Buonissimo. Assomiglia al Colgate White Now. La versione quella vecchia. È una pasta celeste. Buone il profumo. Va a rinfrescare il cavorale. Lava benissimo. Mi piace, ve lo consiglio. Mi è piaciuto anche questo qui. Preso sempre in offerta. Da 125 ml. Non so se a Maui o a Risparmio Casa. E questo era celeste, mi sembra. No, bianco. Buono. Sì, mi è piaciuto anche questo. Pensavo, avevo paura di essermi sbagliato. E aver ripreso quello che mi mandava a fuoco le gengive. Invece no. Mi è piaciuto veramente tanto. Anche questo mi è piaciuto. Di Eurospin. È molto simile a quello di Lidl. Questo qui. Molto simile. Buono. Sì, mi è piaciuto. Sa di menta. Lava bene. Lascia il cavorale fresco. Questo invece è proprio zero. Non ce la posso fare. Gli unici menta dent che mi piacciono sono i White Now. Ne ho provati 250.000. Non mi piacciono. O non sanno di niente. O c'hanno i granelli troppo spessi. O non lavano bene come piace a me. No. Bocciato. Ce l'abbiamo fatta finalmente. Ultimo argomento. Profumi. E... No, mi sono scordato di prendere i profumi di sotto allo sgabuzzino. Ho terminato. Allora. Fiore dell'onda. Ne ho un'altra confezione. Buonissimo. Questo è un profumo salino, marino, secco. Perfetto per l'estate. Terminè. Un, due, tre. Terminè. Quello che vedete non sale più. È un profumo fresco, arioso, secco, pungente. Buono. 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 Su di me dura 6-7 ore. Ho anche il bagno schiuma, crema corpo e bla bla bla. Veramente ottimo. Ve lo consiglio. Se amate i profumi tipo acqua di sale, tipo rem di reminiscenza. È molto simile. Buono. Proprio buono. Sì. Consigliatissimo. Terminato un campioncino di cetro di calabria di erbolario. Questo l'ho portato quest'estate in vacanza. E me lo so, ciucciato, di giorno, buonissimo. È un profumo che sa di limone, di limonata. Quindi di limone, di zucchero, di vaniglia. Veramente ottimo. È anche una buona tenuta. E altro profumo terminato è questo dei tesori d'oriente. Si chiama ambra indiana. Molti dicono che sia il dupe di mandorla di erbolario. Secondo me non c'azzecca niente. Perché questo è il dupe di Le Mal di Jean Paul Gaultier. Quindi un profumo da uomo. Buono. Non ve lo so definire come profumo. È un speziato verde fresco. Ma ha anche una sua componente orientale. Cioè è difficilissimo da spiegare questo profumo. Perché è particolare. Se lo conoscete è il dupe di Le Mal di Jean Paul Gaultier. È un profumo elegante, sofisticato, sexy. Molto leggero. Come posso dire. È arioso, è seducente, ammaliante, accattivante. È veramente buonissimo. E questo è un dupe di tutto rispetto. Costa 4 euro e li vale tutti. Vedete questi profumi li ho utilizzati quest'estate. Mi sono dimenticato giù nello sgabuzzino gli altri profumi terminati. Quindi mi sa o farò un video a parte o li metterò nel prossimo video prodotti terminati. Comunque straconsigliato. Mi è piaciuto veramente tanto. Però non credo che lo ricomprerò. Perché ho un quello originale da terminare. Anzi da iniziare. E un altro di Debor, di Diadora da usare. Che è praticamente identico a questo qui. Ok ragazzi. Il video è finito. Fatemi sapere se avete utilizzato qualcuno di questi prodotti. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.